Il Premier Draghi interviene sul PNRR. Siamo determinati a reprimere infiltrazioni criminali, ribadisce. Credibilità e futuro economico del Paese dipendono dalla capacità di spendere bene questi fondi. Roberto Chinzari. Spendere bene e con onestà in maniera efficace ed efficiente. Mario Draghi più volte ha sottolineato la necessità di non sbagliare nell'appuntamento con il Next Generation EU. Lo ribadisce nel messaggio inviato al forum organizzato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza insieme ad Europol. L'arrivo dei fondi è una grande sfida per tutta l'Europa ed in particolare per l'Italia, si legge. In gioco il futuro dell'economia e la credibilità delle istituzioni. Siamo determinati a reprimere qualsiasi tentativo di frode e infiltrazioni criminali a tutela di cittadini e imprese. A livello europeo, ricorda Draghi, un ottimo esempio di collaborazione e rappresentato dal gruppo di lavoro per il Covid-19. Un allarme per un interesse delle mafie a cercare di infiltrarsi rilanciato dal ministro dell'Interno, Luciano Lamorgese. Abbiamo gli strumenti per affrontare le sfide della criminalità organizzata, rassicura. Il governo sta lavorando sul codice antimafia. Serve un'azione preventiva ed una preparazione specifica per proteggere le risorse del recovery dalle aggressioni criminali.